La guardia di finanza di Lucca ha denunciato 20 persone che percepivano illecitamente gli aiuti economici. All'ospedale San Francesco di Barga riapre la bolla Covid, lo ha deciso la ASL dopo l'aumento dei contagi in Valle del Serchio. Mezzo secolo di confesercenti, premiate le attività storiche della provincia di Lucca, l'evento si è tenuto al Country Club di Gragnano a Capandoli. Lo sport, la lucchese femminile cede all'orobica sconfitta interna delle rossonere contro la formazione bergamasca, polemiche per il gol delle ospiti in sospetto fuori gioco, espulso l'allenatore Tarantino. Basket, i Gesam affonda Sassari e vede la Final Eight, bella vittoria delle biancorosse che seppur prive della polacca Kazmiewczyk battono la compagine sarda. Bentrovati a questa nuova edizione del TG. Noi in apertura parliamo di cronaca, un'operazione della guardia di finanza contro i cosiddetti furbetti del reddito di cittadinanza. Sentiamo Federico Conti. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lucca, in collaborazione con gli uffici dell'Inps, hanno effettuato dei controlli nei confronti di percettori del reddito di cittadinanza, al fine di verificarne le regolarità, denunciando 20 soggetti in quanto avrebbero illicitamente percepito tale beneficio economico per un ammontare complessivo di oltre 135 mila euro. L'analisi effettuata incrociando le banche dati messe a disposizione dall'Inps ha consentito di constatare numerose irregolarità nei confronti di beneficiari che hanno omesso di dichiarare disponibilità economiche emergenti da vincite al gioco, la disponibilità di due immobili in costa azzurra, oltre alla pendenza di misure cautelari a carico di componenti dei nuclei familiari. Innumerevoli anche i casi in cui i beneficiari hanno riportato nella propria DSU false dichiarazioni, arrivando in un caso a dichiarare di sostenere spese di affitto per un immobile per il quale era già stato da tempo disposto lo sfratto, così come la truffa perpetrata da un cittadino polacco titolare di partita IVA, che utilizzando una falsa identità era riuscita a deludere in un primo momento i sistemi di controllo. I finanziari hanno dunque effettuato le denunce e segnalato alla competente direzione provinciale dell'Inps le medesime persone al fine di procedere all'immediata attivazione del recupero delle somme legittimamente incassate, nonché al blocco dei contributi richiesti ma non ancora erogati. Ancora la cronaca purtroppo. Lutto a Borgo Ammozzano per la morte improvvisa di un neonato di neanche due mesi di età. Il piccolo ha accusato un malore mentre si trovava in famiglia ed è stato trasportato all'OPA, il centro specializzato di massa, ma non c'è stato niente da fare. Il bimbo di nome Martino era stato battezzato da pochi giorni. La tragedia ha gettato nello sconforto la comunità di Val d'Ottavo, dove abita la famiglia, e di tutta la valle. Ha presa la notizia il sindaco di Borgo Ammozzano, Patrizio Andreucetti, ha deciso di annullare l'evento dedicato ai bambini in programma domenica prossima ed ha chiesto che nel giorno del funerale tutti gli esercizi commerciali osservino il lutto e che venga spenta l'illuminazione natalizia. Saranno adesso gli accertamenti medici a stabilire la causa del decesso del bambino. Ovviamente alla famiglia vanno le condoglianze di tutto lo staff di Noi TV. Parliamo di Covid. I nuovi contagiati in Toscana sono 703, il tasso di positività è al 4,4%. Salgono i ricoverati, sono 354, 12 in più rispetto a ieri, 50 dei quali in terapia intensiva, 3 in più rispetto a ieri. I decessi sono 4 in tutta la regione, l'età media è di quasi 76 anni. 95 in nuove casi in provincia di Lucca, 32 sulla Piana, 18 in Valle del Serchio e 45 in Versilia. Per quanto riguarda la Valle del Serchio è stato deciso di riaprire la bolla Covid all'ospedale San Francesco di Barga. Sentiamo. La ASL Toscana Nordovest ha annunciato che all'ospedale San Francesco di Barga è stata attivata in via temporanea un'area Covid destinata in particolare a pazienti asintomatici o comunque non in gravi condizioni. La decisione è stata assunta dal direttore dei presidi ospedalieri di Lucca e Valle del Serchio Michela Maielli, in accordo con la direzione aziendale, considerato l'aumento di casi positivi registrati negli ultimi giorni in Valle del Serchio e il conseguente incremento della richiesta di posti letto per pazienti Covid. La nuova bolla consente di non saturare i posti Covid all'ospedale San Luca di Lucca che assiste pazienti complessi e dove c'è già un consistente numero di ricoverati positivi al coronavirus. Un'area Covid all'ospedale di Barga era già stata aperta dal mese di novembre 2020 fino al mese di gennaio di quest'anno. Il San Francesco era tornato ad essere no Covid esattamente il 22 gennaio scorso. E come sapete sono iniziate le prenotazioni per il vaccino pediatrico anti-Covid da somministrare ai bambini dai 5 agli 11 anni di età. Sono 4.490 le dosi che sono state fornite complessivamente alla ASL Toscana Nord-Ovest e quasi l'80% dei posti disponibili è già stato prenotato. Ovviamente si tratta di una prima tranche di vaccini. Vedete in grafica i dati diffusi dalla ASL relativi al nostro territorio, degli slot disponibili e di quelli già prenotati. Sulla piana di Lucca disponibili 540 slot, già prenotati 482. In Versilia disponibili 550, già prenotati 500. In Valle del Serchio non erano disponibili 120. Sono già stati tutti prenotati. Ricordo questa è la prima, soltanto la prima tranche dei vaccini disponibili anti-Covid per i bambini. Cambiamo argomento, parliamo di commercio, dei 50 anni di vita della Confesercenti che sono stati celebrati in provincia di Lucca a Capandri, una cerimonia per premiare le attività storiche. La Confesercenti ha festeggiato i 50 anni dalla sua fondazione e lo ha fatto con una serata di gala dedicata alle imprese della Lucchesia e della Versilia che hanno tagliato un traguardo importante proprio quest'anno. L'evento è stato ospitato dal Country Club di Graniano a Capandri. Si è trattato della prima edizione per la provincia di Lucca, di un appuntamento arrivato invece già alla terza edizione per l'area pisana. Distributori, ambulanti, stabilimenti balneari, ristoranti, librerie, piccole e medie imprese del territorio che hanno raggiunto i 20, 25 o 50 anni di attività, fino al record del Tennis Italia di Viereggio che ha festeggiato ben 82 anni di storia. A consegnare i premi sono stati i vertici della Confesercenti Toscana Nord, presenti sindaci e assessori di ai comuni di Lucca, Viereggio, Capandri, Alto Pascio, Porcari, Pescaglia e l'assessore regionale Stefano Baccelli. Fra i premi della sezione Cuore d'Impresa, il neonato centro commerciale naturale di Spianate che si è costituito nel febbraio scorso nel pieno delle restrizioni Covid, un esempio di reazione positiva alle incertezze economiche della pandemia. La classifica annuale del quotidiano Sole 24 ore sulla qualità della vita in Italia, c'è la classifica delle province, Lucca si è piazzata più o meno a metà graduatoria, ci sono degli aspetti però che sono interessanti, sentiamo. Lucca a metà classifica nell'annuale graduatoria stilata dal Sole 24 ore sulla qualità della vita in Italia, che vede a livello nazionale ai primi posti Trieste, Milano e Trento. La nostra provincia guadagna sette posizioni rispetto all'anno scorso e si piazza al 58esimo posto. In ambito toscano però Lucca è in terz'ultima posizione. Nella nostra regione prima per qualità della vita è Firenze, undicesima nella graduatoria nazionale, davanti a Siena e Pisa. Dietro di noi ci sono solo Massa Carrara e Pistoia. A tirar giù in classifica Lucca è in particolare un triste record. La nostra è la provincia dove si consumano più farmaci antidepressivi pro capite in Italia. Da sottolineare però che da anni tutta la Toscana è al vertice di questa classifica, tanto che agli ultimi posti in Italia ci sono anche Firenze, Massa e Pistoia. Altro indice particolarmente negativo è quello dell'affollamento del carcere. Il San Giorgio in questa classifica è terz'ultimo in Italia davanti solo alle strutture di Lodi e Taranto. Siamo invece migliorati nel capitolo giustizia e sicurezza. Lucca è 26esima in Italia e in particolare da noi sono molto diminuite le denunce legate al riciclaggio ed impiego di denaro. Bene, anche un altro capitolo tradizionalmente a noi favorevole è quello della cultura e del tempo libero, dove ci siamo piazzati al 27esimo posto nella graduatoria nazionale. Torna lo smog nella piana e visti gli sforamenti dei valori consentiti di polveri sottili, i comuni di Lucca, Capanno, Rialtopascio e Porcari hanno emesso un'ordinanza relativa alla circolazione dei veicoli più inquinanti che non potranno circolare per tre giorni dal 14 al 17 dicembre. Rimaniamo nella piana con una notizia di tutt'altro genere, pomeriggio di festa e solidarietà tra Pieve San Paolo e Carraia. Si sono svolti nelle comunità di Pieve San Paolo e a Carraia dei Capannori due eventi molto importanti. Il primo a Pieve San Paolo organizzato dal locale gruppo dei donatori di sangue Fratres, il posizionamento di un defibrillatore nei pressi della Pieve, strumento messo a disposizione della comunità, ma con la speranza che non serva mai. La donazione nel ricordo di un donatore prematuramente scomparso. La nostra è stata un'iniziativa legata principalmente alla scomparsa prematura di un nostro componente del gruppo, era un po' un componente storico, una bandiera, un personaggio aggregante, sempre disponibile, quindi ci è sembrato quanto meno doveroso rendere gli omaggio anche con l'installazione di un apparato del genere. L'altro evento si è svolto sul Sacrato della Chiesa di Carraia, tornata a nuova vita dopo la chiusura dell'uscita autostradale. È stato un pomeriggio dedicato a Natale, ma soprattutto a Babbo Natale ed è stata l'occasione per i più peccini di spedire la letterina, mentre i più grandi hanno condiviso momenti di allegria. Sì, è questo lo spirito che abbiamo voluto ricreare qui a Carraia, nel nostro paese che seguiamo come associazione Il Faro e abbiamo pensato di portare sia Babbo Natale, un po' di banchetti per aiutare le parrocchie, poi un po' di musica, dolci e aspettiamo anche i campanari dell'associazione Campanari Lucchesi che dovrebbero suonarci un concerto. Il pomeriggio di festa si è concluso proprio con il suono, grazie al concerto delle campane e suonata a festa dai campanari dell'associazione Campanari Lucchesi. Una protesta da circa 15 giorni. Gli abitanti del piccolo borgo di Trassilico, nel comune di Gallicano, sono privi del servizio di telefono fisso. Alcuni di loro purtroppo abitano anche in una zona che non è coperta dal segnale di telefonia mobile. Pertanto si trovano isolati, senza possibilità di comunicare o di essere contattati. Gli utenti chiedono che il servizio sia ripristinato il più velocemente possibile. Andiamo a Lucca adesso dove è stata presentata la domenica del Basket Day al Palatagliate. Domenica prossima, 19 dicembre, al Palatagliate va in scena il Basket Day, la manifestazione promossa dalla Croce Verde insieme al Basketball Club Lucca. L'evento è stato presentato dal Presidente della Croce Verde Massimo Borella e dal Presidente del Basketball Club Matteo Benigni. L'appuntamento è a partire dalle ore 15 con sfide sportive per bambini e ragazzi alternate a momenti di intrattenimento. Poi alle 18 la gara di Serie C Gold tra Basketball e Cuspisa. È un pomeriggio all'insegna del gioco del basket, ma con una finalità estremamente importante che appunto tutto il ricavato di questo pomeriggio di sport verrà devoluto al nostro sodalizio, appunto la Croce Verde di Lucca. Nella parte iniziale del pomeriggio verranno coinvolti anche i ragazzi e le famiglie dei ragazzi, anche con una piccola raccolta di beni alimentari che andranno ad incrementare quelli che sono i nostri pacchi della spesa nel nostro Banco Alimentare. Quindi un ringraziamento sentito a tutto lo staff organizzativo del basket maschile Lucca e un ringraziamento anche a tutti quelli, spero tanti, che parteciperanno, vi ripeto, domenica 19 dicembre dalle 15 al Palazzetto dello Sport di Lucca. È tutto per la cronaca, alcuni istanti di pubblicità e poi passiamo allo sport.